benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa e vangelo puntata che si apre con la notizia che giunge dal fondo monetario internazionale ci sono le stime del fondo monetario internazionale appena arrivate in diretta dalla riunione indonesiana dell'fmi che noi abbiamo seguito e monitorato per voi in questa mattinata e bene le stime dell'fmi non sono buone per l'italia c'è un taglio della previsione di crescita e quindi i primi numeri oggi faremo una puntata sui numeri sono numeri non incoraggianti in più c'è lo sped che apre a quota 300 insomma non è una giornata che dal punto di vista dei numeri si apre in maniera esaltante saluto antonella bagno che la prima ad arrivare guardate la mia presbiopia che mi fa mettere gli occhiali in punta guarda ernesto taveri meri rossi vi saluto tutti grazie per la vostra puntualità al mattino per la diretta stampa vangelo oggi dedicata agli aspetti numerici però non parleremo solo di spread di borsa che affonda di fondo monetario internazionale che taglia le previsioni di crescita dell'italia il pil viene tagliato all'1,2 per cento considerate che in manovra economica il governo dice che il pil crescerà dell'uno e mezzo savona ieri ha detto addirittura del 2 per cento e poi del 3 per cento nel 2020 ora se ragione se ha ragione savona tutti felici l'italia ripartita è andata alla grande la manovra del governo giallo verde se ha ragione il fondo monetario internazionale con l'1 e 2 invece del 2 o del 3 e allora sono guai perché i numeri che ci sono in manovra economica saltano tutti non è una questione da poco insomma quindi ancora una volta ragionare sui numeri ha un suo senso e noi lo faremo oggi ma partire parleremo anche di altri numeri visto che il tema che ha affrontato in maniera molto coraggiosa per certi versi il governo è quello della felicità degli italiani allora parleremo anche di questo ciao a massimiliano esposito a floriana ceccarelli alessandro margiotta sabina bosu del pdf dei castelli romani a saimir ieri c'è stata la riunione della del pdf umbria che ha rinnovato le sue cariche complimenti ai ragazzi hanno fatto tutto in grande unità saluto jacopo pioli alla dalla cina jacopo pioli dalla cina ha seguito l'intervista che ho fatto ieri sera la zanzara è stato utile credo parlare di aborto ieri con cruciani e parenzo abbiamo parlato ancora una volta di temi valoriali e come sempre il nostro contributo in qualche modo non è passato inosservato saluto pdf como andrea brenna pdf bergamo gabriele marconi pdf piemonte mario campanella e ancora pdf puglia vitolo porcaro piero fanara alessandra bertozzi fabrizio delle piane pdf liguria fabbio freddi ottavio delutio vabbè siete tantissimi vi chiedo prima che passo a leggere il vangelo tra l'altro vangelo di luca bellissimo oggi e quindi facciamo in modo che lo possano ascoltare più persone possibili c'è anche alessandro iorio del pdf della calabria allora vi chiedo come sempre un like alla diretta in maniera che l'algoritmo ci faccia salire nel ranking del del nostro la nostra posizione nei social e poi condividete la diretta sul vostro profilo oppure prendete il link perché nella chat operativa pdf ho visto che antonella bagno ha pubblicato il link della diretta prendete il link e inviatelo a tutti i vostri amici di facebook a tutti i vostri conoscenti di messenger e di whatsapp in maniera che tutti sappiano che la diretta è partita ilaria vi chiede come sta clara oggi il primo giorno che è tornata in classe con molta tosse devo dire la verità però speriamo che se la cavi nella giornata scolastica saluto maria pia cardinale mauro gialastri maurizio scudiere rossano giorello e insomma un abbraccio a tutti voi se fate il like e il condividi sulle vostre pagine possiamo passare a leggere il vangelo di oggi che il vangelo di luca siamo al capitolo 18 sono solo quattro versetti dal 38 al 42 arrivata anche alessandra trigila roberto bruno e un amico in più cerchiamo di raggiungere un amico in più come si dice nella canzone per avere insomma un ascolto massimo rispetto al vangelo che stiamo per leggere davvero molto belli questi versetti anche molto noti per certi versi ma ci aiutano a fare luce su quel che dobbiamo fare e mai come oggi il vangelo ci dà questo aiuto in quel tempo gesù entrò in un villaggio e una donna di nome maria lo accolse nella sua casa essa aveva una sorella di nome marta la quale sedutasi ai piedi di gesù ascoltava la sua parola marta invece era tutta presa dai molti servizi per pertanto fattasi avanti disse signore non ti curi della mia sorella mi ha lasciata solo a servire dille qual dunque che mi aiuti ma gesù le rispose marta marta tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta questa è la parola del signore di oggi la dialettica tra marta e maria maria che si sceglie la parte migliore che come dire davanti alle faccende quelle che ci dovrebbero occupare perché riguardano la nostra quotidianità mi verrebbe proprio da pensare la puntata di oggi l'ho pensata così questa pagina di mangelo mi fa dire tutti oggi a leggere lo spread a guardare come hanno aperto i mercati hanno aperto con lo spread a 300 guardare come vanno le borse e a seguire appunto i dati del fondo monetario internazionale ve lo dati la stima della crescita c'è l'italia ridotta all'uno virgola due per cento mi sembra molto marta marta che si preoccupa dell'immediato non che non sia importante sia chiaro è evidente importante la faccenda immediata la faccenda domestica in questo racconto ma maria ascolta la parola del signore e li trae la forza e la crescita scegliendosi la parte migliore e allora mi sembra di dover spiegare oggi davvero questo noi potremmo fare la puntata di oggi discutendo ovviamente delle stime del fondo monetario internazionale dello spread e dell'indice di piazza affari sono le faccende domestiche diciamo così di una marta che si occupa giustamente di quello che è importante iket nunc qui e ora poi però mi sono andato a guardare un po di numeri sapete c'è un sito che mi ha catturato l'attenzione ieri perché è un sito che racconta i numeri del giorno ma guardando a altri dati che non siano quelli di piazza affari o quello dello spread per esempio c'è un sito che dice quanti sono i nati di oggi e quanti morti di oggi bene ieri sono nate 1020 persone ne sono morte più di 1500 i dati mi dicono anche che ieri sono stati abortiti 241 bambini allora mi sono andato a guardare questi numeri e ho cominciato a pensare a quanto questi numeri fossero più rilevanti del dato del 300 di spread o del dato di questa mattina del taglio del fondo monetario internazionale alle previsioni di crescita nell'italia anche nella riunione indonesiana notturna che per carità ha molta importanza ma noi continuiamo ad avere questo problema serio mille e venti nati più di 1500 morti e 241 aborti poi ho scorso le prime pagine i giornali sapete per fare stampa evangelo questo è il lavoro che faccio leggo il vangelo del giorno ma mi leggo anche le prime pagine il gazzettino mi ha attirato perché sul gazzettino si parla di della morte di questa ragazza alice alice aveva 16 anni ed è la ventesima vittima di una partita di eroina gialla che viene spacciata dalla mafia dingeriana nel nord est ha causato più di 20 morti l'ultima appunto una ragazza di 16 anni alice tra l'altro bellissima la foto sul giornale è impressionante quanto è bella questa ragazza 16 anni morta di overdose di eroina gialla nei bagni della stazione di udine ieri sono tenuti i funerali centinaia di morti per droga e la mettevo insieme centinaia di morti l'anno per droga in questo paese incredibilmente ancora oggi l'ultima vittima una bambina di 16 anni nei cessi della stazione di udine per una partita di eroina gialla e questa eroina diciamo molto molto attiva come principio attivo che sta imperversando in particolare nel nord est perché portata dalla mafia nigeriana che la spaccia e tutti questi dati a me hanno messo addosso l'idea che l'italia sia davvero un paese cupo sia davvero un paese cupo i dati su nascita e morti sono relativi a tutta la nazione italiana di ieri proprio i dati di ieri e mi sono chiesto ma su questi numeri riflettiamo mai veramente questi numeri ci sono mai quotidianamente sui giornali no trovate il fondo monetario internazionale lo spread l'indice di piazza affari il cambio euro dollaro che da 1 e 15 è passata ai 1 e 14 questo lo trovate tutti i giorni su tutti i giornali ieri il dollaro è passato da 1 e 15 a 1 e 14 su questo ci sono articoli riflessioni su alice non avete trovato una parola è una notizia confinata sul piano locale ed è impressionante una bambina di 16 anni che muore da sola nei cessi della stazione di udine per overdose di eroina una ragazza di una bellezza folgorante lo dovete vedere questo questa immagine per capire come vi si stringe il cuore complessivamente un paese che ha molti più nati che morti 1500 ripeto i morti di ieri rispetto a 1020 nati 241 bambini abortiti è un impressione o no vi fa impressione l'idea che ieri sono stati abortiti centinaia di bambini qualcuno prima citato mi pare sia stato proprio jacopo dalla cina la mia intervista di ieri sera alla zanzara in cui mi dicevano ma perché mi facevano sempre questa domanda ostensiva allora secondo te una donna deve essere obbligata a partorire e mi dicevano questa domanda forse non avendo chiari questi questi dati 241 donne 241 bambini sono stati uccisi ieri ieri 10 l'ora tutte le ore del giorno e della notte secondo la media e poi penso ad alice poi penso a questo dato così clamoroso di 500 persone in più dei morti rispetto ai nati e mi dico che il ragionamento sulla felicità fatto dal governo e dice che la felicità arriva adesso con il reddito di cittadinanza altro piccolo dato numerico sul reddito cittadinanza sono stati messi 9 miliardi un'enormità è tantissimi soldi ora io faccio sempre questi maledetti conti matematici non riesco a sfuggire a questa maledizione se tu fai 9 miliardi di euro diviso 9.360 perché 780 euro al mese per 12 mesi fa 9.360 9 miliardi diviso 9.360 fa 961.000 persone quindi i famosi 6 milioni e mezzo di poveri che dovrebbero prendere il reddito di cittadinanza non lo prenderanno c'è poco da fare la matematica non è un'opinione si prendono questi dati e si capisce che anche questa felicità spacciata per tale e non lo sarà mai con 780 euro è davvero immaginaria perché i numeri dicono altro 961.000 persone potranno avere il reddito di cittadinanza lo toglieranno a chi ha la casa lo toglieranno a chi abita con i propri genitori alla fine il gioco sarà molto complicato secondo me la gestione della delusione dei molti dei moltissimi sarà particolarmente importante da fare perché molti saranno i delusi da questa è comunque una manovra mostra da 9 miliardi di euro solo sul reddito di cittadinanza quindi attenzione ma detto questo parliamo ripeto di tutti questi numeri di cui abbiamo provato a parlare oggi mi sembra molto lontana la felicità se si uccidono 241 bambini al giorno se si ammazzano centinaia di giovani di overdose l'ultima una ragazzina di 16 anni nei cessi della stazione di udine non ne abbiamo notizia ho dovuto spulciare la notizia sul gazzettino altrimenti non sarebbe arrivata la notizia ed è impressionante la sola foto di questa ragazza vi impressionerà per la bellezza di alice se ieri sono nati 500 persone in meno di quelle che sono morte il racconto che esce fuori da questa fotografia fatta attraverso i numeri è davvero impietoso domani alla presidenza del consiglio a palazzo chigi quindi nel cuore del governo del paese si presenterà un rapporto che dimostrerà come l'italia perderà il 17 per cento della popolazione nei prossimi 30 anni 17 per cento della popolazione l'ho già detto ma ve lo ripeto ricordate bene che nel trentennio che è passato da quando siamo entrati nella prima guerra mondiale 1915 quando è finita la prima la seconda guerra mondiale 1945 in quel trentennio perdemmo il 10 per cento circa della popolazione nel trentennio disastroso dell'aborto dell'incapacità di cultura di avere la cultura della vita della famiglia perdiamo il 17 per cento della popolazione senza eventi bellici attenzione li vedete questi numeri bene domani saranno presentati ufficialmente la croce li anticipati in prima pagina in un rapporto che è scientifico è incontestabile come si fa a non capire che l'emergenza proprio per la felicità quella che salvini e di maio indicano come priorità è evidentemente un'altra noi stiamo andando davanti alla più tragica delle decurtazioni di popolazione che non è riuscita né alla peste bubonica né a due guerre mondiali per la nostra uccisione della cultura della vita della famiglia servono i numeri guardati i numeri di ieri ieri 8 ottobre del 2018 nascono 1020 persone ne muoiono più di 1500 vengono abortiti 241 bambini e questo scenario costruisce nel prossimo trentennio la perdita del 17 per cento della popolazione italiana cifra che non è stata persa nel trentennio che ha attraversato due guerre mondiali nel novecento cosa bisogna capire di più perché ieri quando sono stato alla zanzara non ho potuto che urlare il mio no ma non il no all'aborto no all'aborto intanto perché non è un diritto non è un diritto neanche riconosciuto dalla legge italiana è un extrema razio no all'aborto perché c'è un'emergenza nazionale che si chiama natalità e senza la cura di questa emergenza nazionale noi siamo destinati alla tragedia nazionale no perché tutta questa cultura della morte costruisce le condizioni di un collasso del sistema paese perché non reggeranno le strutture di welfare e allora oggi leggetelo in prima pagina sulla croce l'editoriale di roberto mura del pdf pisa non vi sembra l'orchestrina che suona sul titanic il fatto che a pisa fra tre giorni comincia una fiera che dura per tre giorni appunto di celebrazione e di vendita della cannabis light cioè del gate d'ingresso alle droghe per giovani e giovanissimi io intanto lo considero un oltraggio alla figura di alice quando io penso a questa ragazza che muore sola nel bagno di una stazione a udine perché si è fatta di eroina gialla e quindi con ogni probabilità il suo accesso al mercato e al mondo della droga è arrivata da giovanissima perché purtroppo la cannabis entra nel circuito già le scuole medie e abbiamo una incidenza da record europeo di consumo di droghe all'interno delle fasce adolescenziali e persino preadolescenziali se noi abbiamo tutto questo non vi sembra la fiera di pisa che oggi solo la croce denuncia con uno splendido editoriale di roberto mura l'orchestrina che suona sul titanic quando ormai si sta affondando invece di provare a salvare le vite e a salvare le persone io non voglio essere cubo non voglio aggiungere cupezza a cupezza ma davvero il vangelo di oggi di marte e di maria mi fa dire siamo tutti a discutere e a scrivere e a capigliarsi sulle faccende domestiche dell'oggi lo spread il fondo monetario internazionale dall'indice di piazza affari ma la grande questione il quadro importante il tema della felicità quello che poi l'incontro di cristo e maria che parla con lui la parte migliore diciamo così la stiamo osservando la stiamo osservando allora se io osservo questo quadro mi viene insomma mi viene da dire quello che ho detto ieri alla zanzara per 20 minuti per 20 minuti intervistato dalla zanzara ho spiegato che se il popolo famiglia governasse il mondo detto a un certo punto diventasse imperatore del mondo e non lo sono perché purtroppo comandate voi ho detto a parenzo e a cruciani l'unica strada che da prendere è quella di rendere impraticabile l'aborto facendo tornare i medici a fare i medici cioè a curare le persone e non a uccidere con le pratiche abortive vietate l'aggiornamento di ippocrate così come le pratiche eutanasiche costruire consapevolezza costruire bellezza costruire gioia e fare tutto questo perché nel frattempo la memoria di alice deve essere difesa in qualche modo quella bambina va difesa non è pensabile che in questo paese muoia una ragazzina di 16 anni nei cessi della stazione di una grande città come udine nell'indifferenza generale non ci sia la notizia da nessuna parte nessuno si interroga su quello che sta avvenendo ai nostri giovani del perché avviene ma solo il popolo e la famiglia dice bene alessandra bertozzi deve rinunciare questa cultura di morte siamo dei matti come dicono gruciani e parenzo durante l'intervista di ieri io penso che noi stiamo facendo un lavoro fondamentale che è un lavoro che se non facciamo noi come dico sempre agli amici del pdf in tutta italia non farà nessuno se non avesse scritto roberto mura l'editoriale sulla croce di oggi nessuno saprebbe della fiera di pisa nessuno saprebbe che c'è un movimento che contesta quella fiera che è un cancello d'ingresso al consumo di droga e allora questo quadro di morti di droga di diffusione di spaccio di allegra cagnara intorno alla cannabis di aborto di morti che sono molto più di quelli che nascono del 17 per cento di popolazione che perderemo nel prossimo trentennio non è chiaro che tutto questo rappresenta un'emergenza nazionale su cui la mobilitazione deve essere fondamentale forse deve essere complessiva e quello che diciamo noi ha un suo senso nella riflessione di tutti poi per chiarità arriva stefano albamonte e scrive ma quando la fai una dieta e c'ha ragione pure lui se non vieni qua e dici la puttanata del giorno a che serve aver fatto la diretta di stampa evangelo ma anche lui in qualche modo è attratto dal nostro essere controvento altrimenti non starebbe qui con una bella giornata di sole alle 9 e 23 del mattino a interloquire con qualcosa che gli è completamente estraneo evidentemente noi formuliamo delle riflessioni che toccano le viscere delle persone rodolfo zennaro dice mario ieri hai reso una buona testimonianza sul radio 24 ti ringrazio davvero rodolfo noi dobbiamo cogliere tutte le occasioni la pdf tv penso ieri alla puntata di dentro i fatti di danilo leonardi la pdf tv è uno strumento con cui noi proviamo a suscitare attraverso la nostra testimonianza una riflessione che forse avete notato asia bibbi dopo la diretta di stampa evangelo qualche ora dopo è arrivata sulla prima pagina della home page di repubblica seppur nella parte bassa della home page forse qualcosina quando le cominciamo a dire vengono fatte rimbalzare grazie a voi che con le vostre condivisioni lo portate in tutto il sistema dei social qualcuno se ne accorge e magari le notizie filtrano notate questa cosa ieri quando abbiamo fatto stampa evangelo non c'era una riga su asia bibbi su nessun sito nel pomeriggio alla fine qualcosa su asia bibbi è apparso persino su repubblica quindi è il nostro lavoro questo è quello che il pdf fa lo volevo dire poi non sono riuscito a dirlo alla zanzara fondamentalmente ieri alla zanzara hanno detto voi siete persino moderati rispetto ad alcuni toni che in questo momento ci sono per esempio io ho detto che non sono una persona che si scaglierà mai contro l'omosessuale persona io non ho nulla contro le persone mai domenico gallo dice si sa nulla di asia bibbi leggi la prima pagina della croce di oggi e lo saprai vi posso chiedere di leggere la croce perché in questo momento abbiamo sempre più bisogno della vostra nel vostro sostegno www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora per avere tutte le informazioni su come andata ieri l'udienza di asia bibbi che resterà in carcere comunque fino a fine mese per la sentenza definitiva dicevo volevo dire durante la puntata della zanzara che noi stiamo facendo un ruolo svolgendo un ruolo loro dicevano visto adesso sono moltissimi che stanno sulle vostre posizioni anche con toni molto esacerbati e noi siamo più moderati veniva detto vuol dire che noi stiamo mettendo dei temi che stanno crescendo nella cultura popolare e questo è il ruolo del popolo della famiglia facciamo questo affinché i nostri temi germoglino un po come hanno fatti radicali in altri versanti della politica magari avevano poco consenso ma i loro temi erano temi talmente forti che poi alla fine sono germogliati purtroppo come la gramigna e la zizzania nei campi politici a noi avversi noi per nostro verso vogliamo e possiamo fare questo lavoro e credo che la puntata di stampa evangelo serva al mattino proprio per orientare un po la comunicazione per dare i nostri temi che qualche volta vengono anche ripresi e finiscono poi nel mainstream nazionale ieri ho dato un'intervista testuale a un sito importante che si chiama diario del web e poi ho dato un'intervista alle 19.45 alla zanzara questo è il modo con cui noi cerchiamo di far entrare i nostri temi nel dibattito nazionale facciamo cultura opere e politica come dice andrea brenna molto saggiamente nicola cassone dice come togliere alle mafie il mercato della droga qual è la proposta se la proposta è l'antiproibizionismo voi siete matti perché le la alice muore come faccio a spiegarvelo bene vediamo se stavolta la capite muore di eroina gialla d'accordo la vostra proposta sicuramente gli ha scritto nicola cassone è l'antiproibizionismo con la argomentazione che se io produco cannabis se la metto in vendita in farmacia o dal tabaccaio tolgo i soldi alla mafia non conoscete il meccanismo il meccanismo la torta della droga prevede una fettina relativa alla cannabis che lo ripeto è il gate d'ingresso al mondo delle droghe ma i profitti maggiori evidentemente vengono compiuti dagli oppiacei l'eroina dalla cocaina dalle droghe sintetiche dall'extasi della metanfetamina dal mdma da tutte le droghe sintetiche più gli oppiacei più la cocaina questa è la grande torta se la vostra cultura diventa per togliere i soldi alla mafia devo vendere la cannabis in farmacia sappiate che per togliere veramente i soldi alla mafia doveste mettere in farmacia a libera vendita l'eroina la cocaina le mdma le metanfetamine la droga dello stupro e tutta la parte che fa veramente il mercato anche perché vi assicuro che quando voi farete la droga legale se mai riuscirete speriamo di no perché noi ci opporremo quella droga legale che vendete dal tabaccaio verrà venduta a molto meno con sostanze molto più diciamo così psicotropicamente efficaci da una mafia che sarà sempre capace di stare avanti sul mercato a meno che non decidiate di venderla ai 14 anni ai 15 anni in farmacia cosa che insomma non si fa neanche con le sigarette figuriamoci se lo potete fare con la droga ma loro avranno sempre un mercato sconfinato allora o colpiamo lo dice bene vito pietro lo porchiaro i patrimoni del grande spaccio e attacchiamo frontalmente il mondo della droga sapendo bene dove si spaccia a roma io posso indicarvi i posti e noi lo dicevamo quando ci siamo candidati a guidare la città se io fossi sindaco andrei con la fascia tricolore sul ponte di trastevere dove si vende la cocaina tutte le sere e andrei a fare tutti i giorni opera di ordine pubblico per smantellare quella piazza di spaccio tutti conoscono le piazze di spaccio in città tutti si possono contrastare se una volontà di contrastarle con tutti i mezzi secondo me perché la vita di alice che muore da sola nel cesso della stazione di udine vale l'impiego di tutti i mezzi a 16 anni è morta sta ragazza e se non l'avessimo detto noi oggi qui in diretta stampa evangelo non lo saprebbe nessuno adesso andate a guardare su google alice eroina gialla udine e guardate la foto di questa ragazza di 16 anni e ditemi se la vita di questa ragazza non vale tutti gli sforzi possibili per contrastare lo spaccio di droga delle piazze di spaccio ben note di ogni città compresa udine compresa la stazione di udine dove si sa benissimo che i nigeriani spacciano l'eroina gialla si sa benissimo allora o è una priorità e si attacca su questa priorità considerando la priorità perché a mio avviso la vita delle persone è la priorità o si continua a discutere di reddito di cittadinanza fornero quad 100 non siate marta siate maria è fondamentale essere anche marta guardare i fatti piccoli dell'oggi ma guardiamo lo scenario complessivo e ciò a cui siamo chiamati nell'incrocio e nell'incontro con cristo che vivifica la nostra esistenza se sappiamo fare questo allora questa pagina di vangelo è carne viva è carne viva che ci spiega tutto non ci dice che marta è cattiva è giusto occuparsi dell'oggi e parleremo come abbiamo sempre parlato di spread fondo monetario internazionale di piazza affari e di reddito di cittadinanza e di legge fornero lo faremo sempre ma guardiamo sempre al quadro il quadro è l'uomo il quadro è salvare l'uomo a partire dai giovani dai bambini dai non nati da coloro che non hanno diritto di parola qui noi fungiamo da portavoce questo è il nostro lavoro se carlo è andato a vedere la foto di alice e scrive veramente bellissima perché ha googlato ha fatto alice eroina gialla udine e ha visto la foto della bambina 16 anni che è morta di overdose nei bagni della stazione di udine vedrete immediatamente sorgere da papà da mamme da persone da figli che siete il dolore per questa morte allora noi dobbiamo essere capaci di sussultare per quel che ormai la quotidianità non permette più di avere neanche nel mirino paolo imparato anche ha visto la foto una bambina e noi a questi bambini offriamo il gate d'ingresso della droga light legalizzata preparando culturalmente lo sfascio della cultura della droga legalizzata to cure con l'argomento e così si tolgono i soldi alle mafia e con quell'argomento dovrete liberalizzare tutto dovrete liberalizzare tutto perché il vero mercato è lì è nella mdma mdma nell'extasi che ti fotte il cervello nella droga dello stupro nello piace o nell'eroina nella cocaina è lì il vero mercato allora noi costruiamo una dimensione di consapevolezza su questi temi e il popolo della famiglia credo lo faccia con la sua militanza o noi ripetiamo i numeri centinaia di morti ogni anno tra i nostri figli 20 nel solo nord est negli ultimi mesi per questa particolare eroina che si chiama eroina gialla perché è un'eroina poco tagliata quindi particolarmente efficace ma anche a fortissimo rischio di overdose quanto disperata deve essere una bambina a 16 anni così bella ripeto guardatela così 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 capite fate su google alice eroina gialla udine guardate la foto quanta disperazione ci deve essere per arrivare a 16 anni incredibilmente a togliersi la vita in quella maniera allora noi dobbiamo perché è fondamentale dobbiamo costruire le condizioni per un mondo più umano e che sappia accogliere la sofferenza o il disagio di alice in maniera diversa allo spaccio di eroina gialla come soluzione davvero dice bene nicolò marino riprendendo il titolo di un mio libro o capiamo o moriamo è così è assolutamente così è la mobilitazione che noi compiamo tutti i giorni è la ragione per cui tutti i giorni ci mobilitiamo come popolo della famiglia è la ragione per cui sul diano la croce solo noi oggi in prima pagina con roberto mura denunciamo la fiera della cannabis light che si aprirà a pisa tra tre giorni questa è la ragione per cui siamo mobilitati sui territori è la ragione per cui i ragazzi umbri ieri hanno fatto la riunione per far ripartire il pdf in umbria è la ragione per cui oggi c'è il coordinamento del pdf in emilia romagna è la ragione per cui ci vediamo il 17 di ottobre all'assemblea nazionale dopo aver incontrato prima il santo padre in piazza san piedo ricordo a tutti massima mobilitazione per mercoledì 17 ottobre segnalate la vostra presenza a nicola di matteo sarà una grande occasione per fare queste riflessioni tutti insieme ripartire dal palazzetto delle carte geografiche che ospitò proprio l'assemblea costituente del popolo della famiglia andrea brendo è papà di una ragazza di 15 anni quindi capisce bene cosa significa la morte di alice ma quello che è più grave caro andrea è che se non l'avessi parlato io oggi di alice non avrebbe saputo niente nessuno quella morte se ha un senso se ha un senso e tutto ha un senso è perché sia monito e sprone a noi tutti quella faccia è una faccia da madonna bambina morta di overdose nei bagni della stazione di udine è lì per dirci fai qualcosa e lo dice lo chiede a ciascuno di noi legalizzare le droghe allora rendiamo legale l'omicidio come dice paolo imparato dobbiamo fare un'altra cosa un'altra cosa che è quella di far vincere una cultura della vita che è la questione principale che disinnesca la cultura della morte di cui la droga è figlia è il tema fondamentale vi chiedo davvero di sostenere questa nostra battaglia entrando nel popolo della famiglia leggendo le cose che scriviamo tutti i giorni sul quotidiano la croce il marketplace www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora per sia iscriversi al movimento che abbonarsi al quotidiano noi facciamo quello che nessun altro fa e siamo un gruppo di persone che ha a cuore le sorti di questo paese dalla prospettiva di maria senza dimenticare la prospettiva di marta per carità senza mai stare a puntare il dito anzi guardiamo il mondo anche dalla prospettiva di marta e quindi possiamo parlare sicuramente di spread di fondo monetario internazionale di piazza affari che affonda di reddito di cittadinanza e di fornero però quello che ci interessa al fondo è la felicità la salvezza delle persone quindi l'incontro con cristo di maria maria che sceglie la parte migliore il fatto che da parte nostra la battaglia su un piano più alto ecco se posso dire sinteticamente il popolo della famiglia fa una battaglia su un piano più alto che è anche politico l'angelo c'è sempre figuriamoci visto che me lo chiede jacobo dalla cina non possono inquadrarglielo la nostra battaglia è su questo piano e su questo piano continueremo a farla come pdf fini e come persone in ogni contesto anche se mi chiamano david parezzo e giuseppe cruciani anche se la penso in maniera opposta rispetto a noi anche se vogliono farmi cadere in tutte le loro trappole noi prendiamo 20 minuti e li testimoniamo a radio 24 facciamo un'intervista al diario del web e testimoniamo in quel contesto le nostre idee testimoniamo la verità facciamo un'ora in stampa evangelo affinché le persone possano venire a conoscenza di fatti di cui altrimenti non verrebbero a conoscenza per questo vi chiedo il like alla diretta scusate non l'ho chiesto oggi fino ad ora il like alla diretta il la condivisione della diretta stessa sul vostro profilo e il link inviato ai vostri amici su whatsapp e sul messenger per fargli arrivare alla diretta stessa stefano siga li dice batti e ribatti anche il ferro si piega sono riuscito a far diventare stefano persino un bravo scommettitore quindi può succedere veramente tutto vi faccio vedere le mie scommesse vincenti da otto giocate a volta e finalmente anche stefano comincia a prenderci quindi se sta imparando persino stefano a non fare cose irrazionali ma a fare solo cose razionalissime per vincere gli devo mandare le foto se no non ci crede di come si gioca però insomma questo è un altro dei nostri doni e gli ho scritto è un dono del signore e lo ringrazio sempre anche per questo perché con pascala mi ha insegnato a assumermi i rischi anche in questo territorio sapete facciamo una scommessa collettiva ci divertiamo anche in molti tutti insieme su questo su questo piano bisogna affidarsi alla preghiera dice anna picca se ci si affida la preghiera a lei c'era col papa noi siamo col papa ragazzi non lo sappiamo andiamo a incontrarlo mercoledì quindi ci incontreremo con papa francesco e siamo tutti mobilitati per questa grande occasione emanuela pongiluppi ha trovato anche l'intervista sul diario del web bravissima sempre efficientissimo il nostro coordinamento editoriale vi ringrazio molto antonio aversa vice stringi l'argomento qual è sono ormai in diretta da 40 minuti quindi l'argomento è stato svolto però puoi andarti a rivedere tutta la diretta di oggi che spero vi abbia interessato e non annoiato sono questioni che ritengo fondamentali centrali sottolineiamo le con le persone che seguono il percorso del popolo famiglia ma soprattutto con le persone che sono a noi le mitofe non lo seguono perché capiscano quello che stiamo facendo le ragioni di ciò che facciamo quotidianamente per lo diciamo sempre non per cambiare questo paese ma per salvarlo domani parleremo invece di questo rapporto del presentato che verrà presentato domani alla presidenza del consiglio i lettori della croce hanno già letto l'anticipazione sulla prima pagina della croce sulla perdita del 17 per cento di popolazione italiana nel prossimo trentennio lo ripeto non è successo neanche nel trentennio che andava dal 15 al 45 nel 900 cioè con due guerre mondiali siamo invece facendo accadere tutto questo c'è la perdita del 17 per cento di popolazione senza un evento bellico per la nostra cultura della morte che sta drammaticamente vincendo in termini egemonici sulla società noi proviamo a resistere e credo che la nostra resistenza abbia un senso e ormai anche un ampio e costituito seguito vi ringrazio molto per l'attenzione alla puntata di oggi vi chiedo un ultimo like alla diretta stessa una condivisione sulla vostra pagina il link da inviare ai vostri amici per far sapere che abbiamo fatto la diretta di stampa e vangelo anche oggi un ringraziamento a francesca centofanti che mi sveglia sempre mi dice oh ma oggi ci sei ci sono sempre ci sarò anche domani sempre tra le 8 e 45 le 9 partiamo per poter fare la puntata di stampa e vangelo roma si è svegliata con uno splendido sole clara e persino a scuola un po di tosse ma speriamo sopravviva a questa giornata di ritorno a scuola saluto mirco de carli oggi al coordinamento regionale dell'emilia romagna e venerdì quello del venno venerdì giovedì 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 venerdì venerdì quello del venno detto bene ricordo a tutti ci si vede il 17 all'assemblea nazionale a roma alle due e mezza palazzetto le carte geografiche prima la mattina in piazza san pietro con papa francesco vi ringrazio molto buona giornata a tutti un saluto anche a carla lodi a claudio calamati oggi ho scelto gli occhiali sbagliati domani mi rivedrete con gli occhiali giusti c'è anche luciana frangioni il coordinamento del veneto è sabato mi stavo dimenticando sabato il 15 invece il coordinamento in basilicata grazie anche anna mugianu grazie di tutto mario sempre esaustivo nella verità grazie a leonora pogano che ci dice qui a messina c'è un cielo terzo una splendida giornata godiamoci questa giornata e pensiamo quanto è bella la vita quando vediamo il sole splendere in questo cielo azzurro pensiamo ad alice che non c'è più e pensiamo a quante parole avremmo potuto spendere per abbracciarla e farle vedere questo cielo azzurro insieme a noi e la sua bellezza straordinaria travolta dalla cultura di morte che purtroppo in maniera cupa sta attagliando questo paese resistiamo per lei oggi e domani e preghiamo ovviamente perché maria la conduca al cospetto di nostro signore saluto dalino bassanna saluto manila mattei anna del guerra emiliano velasco e un abbraccio a tutti voi stampa e vangelo torna domani sempre alla stessa ora sempre sulla pdf tv